eccoci qua ciao a tutti un altro gioco indie che vi farò vedere oggi mi piace questo nome ogni volta lo pronuncio come indiana jones sarà un parente lasciamo perdere queste cavolate queste battute pietose allora ci troviamo con un gioco simpatico classico sto continuando con questi giochi classici l'ultimo che ha fatto che era con vine quello che avete visto era appunto basato su arcanoid era un po più particolare non era il solito arcanoid mi riferisco a geometri ball questo pure questo è più e più si avvicina più e più fedele ai classici diciamo degli arcanoid al contrario dell'ultimo che ho fatto con combine e niente ora devo impostare il full screen ma è così eccolo qua perfetto c'è partito ecco ok ok e si va si va giochiamo a questo arcanoid e a scorrimento come potete vedere poi ogni livello si ferma il quadro del gioco per poi proseguire verso l'alto con i successivi livelli scusate ma oggi lo sto messo tanto bene con l'influenza questo è addosso sto facendo il video speriamo di farcela di tenere dei tempi lunghi ok questo li lascio così go è molto veloce si è bloccato ho preso è molto veloce ovviamente stiamo parlando sempre di un gioco elaborato qui in html5 per poter giocare tramite browser vediamo se riesco ecco mi è diventato piccolo e pazienza che devo fare cos'è che capito infatti e lo sapevo game over nemmeno il tempo poi livello 1 insisto insisto è molto veloce non è per niente facile mantenere il ritmo di questo arcanoid l'effetto che dà la pallina è abbastanza veditiera per intenderci non va per i fatti suoi così senza senso ecco la giocabilità è buona unica forse l'unica pecca che non è proprio una pecca anzi è la velocità del gioco ecco si va su con un altro livello siamo al secondo livello non so quando se riuscirò a tenere il ritmo perché è molto veloce è fluido qua come potete vedere devo stare attento a muovermi col mouse perché è veramente molto veloce da un lato è buono perché posso recuperare la pallina senza insomma fare senza distruggere il mouse dare dei colpi secchi si sposta da un lato all'altro con facilità come potete vedere gioco in stile molto pixeloso bello per chi piace il genere ovviamente mi sono dimenticato di dire il nome qual è il nome del gioco sinceramente non lo sto ricordando più comunque è apparso prima in ogni caso metterò il link dove potete andare a provare il gioco il link della pagina ok e saliamo su perfetto ok 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 conviene accompagnare dolcemente la pallina da un lato all'altro perché se iniziate a fare il classico su e giù con colpi diretti essendo che è così veloce di sicuro finite spiazzati e va a finire giù la pallina invece così ecco potete seguirla meglio la direzione della pallina ok questo non lo devo prendere più che che lo fa diventare piccolo lo so è brutto da dire ma è ora è più complicato non so se rimane così piccolo per tutto il livello oppure è a una breve durata questo piccolo handicap diciamo e figurati se lo beccava ok è tornato come prima allora è di breve durata ecco 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 certe volte le tre palline sono controproducenti e nella confusione poi va a finire non è becchi nemmeno una delle tre sempre più ostico devo dire cos'è questa? ok questa elimina i mattoni quelli un po' più grossi con un colpo solo devo dire che questi giochi sono piacevoli come dicevo prima non tutti i giochi indie sono belli insomma per passare tempo ecco lo becco sempre io e me lo fa diventare piccolo non c'è potenza no cacchio no ah mi fa ah meno male mi fa iniziare dal livello 5 avevo paura che tornavo punto e capo dal primo livello dicevo è molto piacevole il gioco è molto fluido un po' frenetico perché devo dire questa pallina è bella veloce già di suo di partenza poi quando si prendono alcuni alcuni tool che in alcuni casi ti avvantaggiano in altri invece rendono il gioco ancora più complesso nell'insieme però è piacevole almeno questo devo dire e chi ama il genere è un po' bello no allora quanti colpi ci vogliono non si sa il mattone rosso cambia calore penso che manca l'ultimo infatti ok e vai con il livello 7 a cacchio cioè per non prendere quello che alla fine l'ho preso ugualmente ho perso anche la pallina che palle ora capite perché non faccio tutti i video dei giochi commentati perché poi va è un continuo imprecare non mi sembra il caso infatti non capisco come fanno gli altri giocatori e i canali a me mi esce il naturel e niente non ci posso fare niente non ci posso fare niente l'ultimo apposto e ora si va su sesto livello ok 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 Grazie a tutti Una volta che si prende la mano In questo gioco devo dire che poi All'inizio è un po' frenetico Perché la pallina va molto veloce Già Di suo Ah mi mancava questo Infatti Mi stavo chiedendo Proprio questo qua Che fine a f*** Ok È un classico proprio degli arcanoidi Eh non li ho voglia di prendere Ok 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 L'unica cosa che noto è che quando poi si va su, a livello successivo, in base a come sono disposti i mattoncini, è un po' ardua come cosa. Perché se i mattoncini risultano troppo bassi, la pallina subito rimbalza contro e vi ritorna indietro con poco spazio, poco spazio limitato, quindi rischiate di perdere la pallina subito al primo colpo. Ecco quello che vi volevo dire io. No dai, dal decimo livello al quinto, no dai. Mannaggia a me quando parlo troppo. Vi ho spiegato proprio il problema che ho notato e neanche a farlo apposta praticamente. Ah niente, la pallina è pesante, si è liberata. Perfetto. Bravi. Vai bene, bis. No, come via. Comunque se c'è da prenderla la prendo perché sennò perdo la pallina ed è peggio. Non vorrei far finire il gioco prima del dovuto. Mi dispiace di dove? Mi sono fermato al decimo livello. Anche per curiosità, per vedere com'è l'undicesimo livello. Ecco, ora si va con ora. Oh. 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 non so come si evolve ora con i livelli successivi quindi non so dirvi se poi alla lunga risulta il gioco monotono spero che c'è possibilità di cambiare mano a mano effetti diversi tool di potenziamento diversi come le classi cercanoi in questo sembra un po' lentino a parte i soliti tre potenziamenti che si riescono a prendere non ho visto finora game over niente la finisco qua eh niente 21 minuti di giocata vabbè volevo vedere un po' come come andava con il livello successivo niente finisco qua ci si vede la prossima volta un altro indie un altro gioco indie pixeloso dal gusto retro bye bye ciao 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 Grazie a tutti.